E' la prima volta che viene qui però, altrimenti l'avrei notata. Non è il tipo per te, Franco. Non farci pensierini sopra. E non dirmi che ti manca la selvaggina, eh. Qualche volta ho pensato di venirti a trovare, ma so bene che non vuoi nessuno sulla tua isola. Quando voglio vedere qualcuno esco io dalla mia tana. Manuela! Dove hai trovato i colpi? In fondo alla cassa punk. Per fortuna l'hai mancato. Sono una stupida, scusa. Non farlo mai più, non voglio. La vita è una cosa preziosa, un mistero. Grazie. 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 Grazie.